solo pochi giorni fa avevamo parlato del 4 dicembre come della possibile data di riapertura delle scuole aggiungendo però che l'ipotesi ci sembrava un po improbabile soprattutto perché l'epidemia non accenna affatto a fermarsi oggi la situazione appare diversa conferma che ormai il tema apertura chiusura delle scuole sta diventando una questione politica movimento 5 stelle italia viva sono sempre più convinti che le scuole debbano essere riaperte al più presto anche il ministro roberto speranza di leu sembra allineato su questa posizione la ministra lucia zolina ovviamente non perde occasione per ribadire questo punto di vista tanto che negli ultimi giorni si è incominciato a parlare del 9 dicembre come data di rientro per tutti e d'altronde anche i tecnici del comitato tecnico scientifico si stanno attestando su questa linea agostino miozzo responsabile del comitato non ha dubbi e nel corso di un forum organizzato dall'ansa ha affermato la scuola oggi non è un pericolo le condizioni sono mutate e l'ambiente scuola è un ambiente relativamente sicuro miozzo sostiene anzi che bisogna riportare a scuola i ragazzi prima possibile e definisce incomprensibili imbarazzanti alcune decisioni di governatori e sindaci che hanno chiuso gli istituti nonostante le decisioni diverse del governo i contrari a questa soluzione sostengono che sarà pur vero che l'ambiente scolastico è relativamente sicuro ma non lo è tutto ciò che fa da contorno a partire dai trasporti senza considerare poi che bambini e ragazzi che entrano scuola possono essere a loro volta veicolo inconsapevole di contagio la data del 9 dicembre sembra a molti poco credibile anche per un altro motivo si finirebbe per riaprire le scuole ma solo per una decina di giorni dal momento che il 23 o il 24 dicembre a seconda dei diversi calendari regionali avranno inizio le vacanze natalizie la ministra però replica aprire le scuole vale sempre la pena anche solo per pochi giorni in ogni caso chi parla di riapertura in tempi rapidi aggiunge anche a condizione che la curva dei contagi incominci a scendere in modo significativo intanto c'è anche chi solleva la questione più generale del calendario scolastico come sta facendo proprio in questi giorni il gruppo condorsè che ha lanciato un appello al quale stanno aderendo esperti e personaggi di spicco a partire dallo stesso segretario nazionale della will pino turi il gruppo sostiene tra l'altro che bisogna iniziare a calendarizzare settimane per il recupero del tempo scuola perso a causa delle interruzioni che già ci sono state rimodulando i periodi di vacanza e allungando l'anno scolastico anche oltre il 10 giugno l'opposizione parlamentare per parte sua sta affilando le armi anche perché in questi giorni sta prendendo avvio alla camera l'esame della legge di bilancio per il 2021 valentina prea di forza italia per esempio chiede che il governo si occupi subito del problema dei trasporti e dei presidi sanitari e annuncia di avere già pronti diversi emendamenti alla legge di bilancio per fare in modo che la scuola possa ripartire al più presto su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it soprattutto continuate a scriverci a mandarci i vostri commenti le vostre osservazioni noi ne daremo conto come di consueto grazie a tutti